Eccovi, finalmente siete arrivati! Siamo nella giungla, la riconoscete? È proprio qui che mi sono messa alla ricerca degli animali della giungla! Appena sono arrivata in riva al fiume ho trovato questa tigre! Bravi Sofia e Simone, avete trovato un animale della giungla! E adesso facciamo i complimenti a Federico perché dall'altra parte del fiume c'era questa pantera nera con un bellissimo cucciolo! Poi sopra le nostre teste ho visto questo giaguaro! Bravi Elisa e Lorenzo! Mi sa che era un po' stanco! Ho notato poi un movimento dentro il fiume e ho visto questo coccodrillo! Bravo Daniele! Nascosto nell'acqua ho trovato anche questo ippopotamo! Bravo Francesco! Poi purtroppo per mia sfortuna anche Leonardo Merello aveva ragione e ho trovato questa orrenda tarantola! A me non piace per niente! E a voi? Subito dopo mi sono trovata vicino vicino a questo boa! Anche Edoardo e Gabriele avevano ragione! Bravi avete trovato un animale della giungla! Ma che paura! Allora ho deciso di spostare lo sguardo e guardare in cima agli alberi dove ho visto queste bellissime scimmiette! Brave è Alice e Carlotta! Lì vicino c'erano questi scimpanse! Brava Gaia! E un po' più in là questo gigantesco gorilla! Bravo Maurizio! Hai trovato un animale della giungla! Anche Dario ne ha trovato uno! Infatti ho trovato tantissimi lemuri! Guardate che bella coda che hanno! Allora vi sono piaciuti gli animali della giungla? Scrivete nei commenti l'animale che vi è piaciuto di più! Poi andate a vedere dove andremo la prossima settimana! E ditemi, quale animale troveremo là? Adesso il mio elicottero sta arrivando, quindi devo proprio salutarvi! Allora, aspetto di sapere gli animali che troveremo nel prossimo habitat! Così inizio la mia ricerca! Ciao! Ciao!